Ehi là, bentornate e bentornati su Broken Stories di Flavio Troisi, scrittore e ghostwriter. Oggi voglio condividere con voi una cosa molto intima, molto personale. Uno scrittore che per me è un punto di riferimento, però per voi probabilmente no. Perché in Italia non è che vada così forte, però è il mio piccolo segreto tenero e oscuro. Perché è questo, tenero e oscuro. Ken Bruen, un autore di noir ambientati quasi sempre in Irlanda o al massimo in Inghilterra. Ken Bruen è irlandese ed ha un'anima veramente nera, ma ha anche un senso dell'umorismo, beh, commovente. Il racconto, anzi il romanzo che più mi ha colpito nella sua produzione tradotta in Italia, cioè poca, è questo. E si trova su Amazon, ancora si trova nella vecchia edizione, che vi invito a accaparrarvi subito con il link che vi metto qua sotto. Fatelo per voi stessi e fatelo anche per questo canale, perché una piccola percentuale finisce nelle mie tasche, senza che voi costi nulla. Così supportate Broken Stories. Allora, il romanzo è Prima della notte. Questo è uno dei miei romanzi preferiti di sempre. Non so se vi rendete conto di cosa significa. Questo è uno dei miei romanzi preferiti in assoluto. È nella mia top ten. Ten, vi rendete conto? Non è un horror, non è un fantasy, non c'è nessuno afflato di altri mondi. No, però ragazzi, Prima della notte. È un romanzo eccezionale. Il protagonista, che si rispetti come in ogni noir, è un ex poliziotto che adesso fa, è un detective privato ed è un grandissimo alcolizzato. Triste. Piovoso nell'animo. un filosofo amaro che si interroga sul senso della vita, della sua in particolare, e beve, beve, tracanna, ingolla litri di alcolici per tutto il romanzo, in cui indaga sulla morte di un ragazzo ingaggiato da sua madre, una bella donna, triste a sua volta. E per quasi tutto il romanzo si ha l'impressione che questo protagonista non concluda niente di buono, cioè passa quasi tutto il suo tempo a sbattere di qua e di là, a bere, a farsi arrestare, a litigare con le persone, a incontrare vecchi colleghi che ormai lo considerano qual è, cioè un relitto. Ma la prosa, la prosa è così asciutta, così magicamente essenziale, è ironica, è autoironica, è amara, amara, così amara, che quando tu finisci di leggere un libro di quelli belli, di Ken Bruen, la tua vita è peggiorata leggermente. Cioè no, mi spiego meglio, la tua vita è migliorata, ma dentro c'è la mezzanotte, ok? E ti dura per un po', perché Ken Bruen è veramente, veramente noir, è veramente nero, è veramente autentico. E qui si parla di indagini, ma di sbronze, di dopo sbronze, si parla di... Ken Bruen è romantico. Ken Bruen è incredibilmente romantico, è quel tipo di scrittore, ma io credo anche probabilmente quel tipo di persona che ci credeva, una volta ci credeva davvero, e poi ha visto il mondo. Andare in malora sempre di più, i rapporti finire male, le amicizie concludersi con il tradimento. E quindi... e quindi ti passa, ti trasmette questa sensazione che non ci sia speranza. Però il suo protagonista comunque indaga, comunque va avanti, comunque continua. e lo fa anche il protagonista di London Boulevard, perché... ecco vedete questa copertina tratta da chiaramente un'immagine del film, l'ho visto di recente, il film anche tra l'altro non è niente male, lo trovate se non sbaglio su Rayplay, non lo so, ma comunque questo è un altro suo bel libro. Il film è decisamente guardabile, tradisce un po' la trama del romanzo, ma anche questo è molto bello, ma non si trova più, quindi è inutile. Poi non si trova, crede neanche più, il prete. Se ne trova forse un altro, io comunque quelli che si trovano ve li metto in link qua sotto, perché Ken Bruen, ragazzi, voi dovete leggerlo. Sintetico, stringato, acuto, affilato, divertente, amaro. Che meraviglia Ken Bruen. E però in Italia non va tanto. Ma perché? Perché? Fatelo andare un po' anche voi. Procuratevelo. Ken Bruen. Poi mi ringrazierete, ragazzi. Cioè, questo qui è uno scrittore, sì, di genere, perché scrive proprio dei gialli, scrive. Però sono dei gialli neri, torbidi, torbidi. Mamma mia, che tristezza. Che tristezza. È meraviglioso. Leggete Ken Bruen. Soprattutto Prima della Notte. Frassinelli. Vi metto qua sotto il link. Fate fuori le scorte di magazzino di Prima della Notte. Ciao a tutti. Da Flavio Troisi.